Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero signore non hai seminato del buon seme nel tuo campo da dove viene la zizzania. Ed egli rispose loro un nemico ha fatto questo e i servi gli dissero vuoi che andiamo a raccoglierla? No rispose perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.